Pu 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 TG Fisbio Bentornati alla nuova edizione del TG Fisbio, Topolino 3366 A pagina 9 Zio Paperone, il giro della Capogiro, episodio 3 Storia di Bruno Henn, disegno di Marco Mazzarello A pagina 45 Topolino, l'origini, dannazione, la disputa della pizza Storia di Danilo Dei Notti, disegno di Ottavio Panaro E a pagina 79, Paperino e il tormento musicale Storia di Pietro Zemelo, disegni di Francesco Guerrini, a pagina 89, storia povera, la preistoria, storia di Augusto Macchetto, disegni di Giampaolo Soldati, e a pagina 114, Paperino e la grande corsa nel deserto, storia e disegni di Marco Rota, e a pagina 129, Super Pippo e Gnana Pips in Arachidi e Piramidi, storia di Pietro Zemelo, disegni di Massimo De Vita. E vogliamo a pagina 161 dove ci aspetta il next del nuovo 3367, Tornacastico, Polino e Leonde, Prima parte, Newton Pitagorico e il grammofono silenzia tutto, Paperino e la fonte scintillante, Pippo Blog and Taste, la rimbaggio a sorpresa, i fratelli De Paperoni, lo scarabeo d'oro, Rocker Duck e il segnale dal futuro. E diamo subito uno sguardo alle statistiche dell'ultima settimana sulle storie di Topolino 3365. La palma di storia della settimana se la giudica Topolino le 2000 palme, ha ha, ho fatto la battuta, del grandissimo Beppe Zironi. Stravince sia nel sondaggio Instagram che nel sondaggio di Facebook. E adesso, come sempre, diamo la linea al nostro colonnello preferito, a lei vi sbiacci! Sì, buongiorno, Topolino 3366, adesso vediamo le storie. Siamo Paperone in giro da Capugino, terzo episodio, dubbio all'orizzonte, non siamo ancora arrivati al dunque. Enna, fai qualcosa! Topolino le origini, la disputa della pizza, i miei otti, il panaro, il piove, vi aiuto! Perché? Fate qualcosa per Topolino? Topolino il tormento musicale, il zemelo guerrini, took life, il sole, il filo di loro, bravi! Storia papera, ma per storia, macchetto soldati, dubbio all'orizzonte, non lo so, ho timore di qualche pasticcio. Temporali! Paperino, la grande corsa nel deserto, rota, autore completo, ho già caldo, confine un sole, lo classico del deserto, anche se la storia potrebbe essere danese, aiuto! Oh, caldo! Super Pippo, Gnana Pips, Gnana Pips, Gnana Pips, Gnana Pips, Zemelo De Vita, l'ultimo del maestro De Vita, mi auguro che sia una storia che valga la pena di leggere! Mitico De Vita, mitico Zemelo! Ed anche per questa edizione di GFizbio è tutto, appuntamento alla prossima settimana! Ed anche per questa edizione del GFizbio è tutto, appuntamento alla prossima settimana! Buu! 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 Ticci Fisspia!